Radio Mi Piace 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 un posto per commentare la trasmissione con noi e allora mi riallaccio subito al sondaggio sondaggio nostalgia odierno di questa settimana di partite attese con tanto pathos se vogliamo dire così io personalmente le ho vissute tantissime tantissime la prima partita che mi è venuta in mente così come un flash una gara una delle prime gare che ho visto del bari campionato 90 91 vediamo se qualcuno tra voi ricorda sicuramente questa questa partita era il finale di stagione una gara da dentro fuori era un bari milan il bari doveva superare il milan di arrigo sacchi per salvarsi era il bari di salvemini si giocò in uno stadio sanicola a dir poco gremito partita da vincere per blindare la salvezza in contemporanea c'era la squadra il bari faceva la corsa sul lecce giusto per tinne una e il lecce quel quel giorno era impegnato invece sul campo della sandoria che doveva giocarsi doveva conquistare la matematica sicurezza dello scudetto lo scudetto della sandoria del campionato appunto 90 91 vi dico la partita in tribuna est mi ricordo che fu una settimana anche quella molto molto lunga non finiva mai perché c'era non era roba da tutti i giorni poter battere il milan attesa quindi spasmodica però alla fine il bari riuscì a battere il milan e il milan diciamo non era il milan di oggi o il milan di ieri giusto per inferire i tifosi rossoneri il milan di sacchi il milan dei grandi campioni poi alla fine il bari riuscì a vincere con una doppietta strepitosa di gioco paolo mentre per il milan andò in gol marco marco simone contemporaneamente a lecce il lecce perse a genova contro la sandoria quindi il bari si salvò il milan perse lo scudetto e la sandoria tinse il tricolore in serie b andarono anche pisa cesena e bologna era un campionato mentre le tre cesoni erano quattro luca dopo questo racconto invece per te quale attesa per una partita del bari ricordi con con piacere se vogliamo dire così ce ne sono ce ne sono tantissime perché insomma dopo tanti anni è chiaro che le partite sono sono sempre di più ecco e ricordo sicuramente diciamo una partita più recente magari è proprio bari bari latina che si disputò proprio nell'anno della remontata vado un po' più indietro con gli anni direi che forse è questa ecco la partita che scelgo in ottica sondaggio ricordo bari empoli nell'anno della promozione di conto nel 2008 2009 partita che poi terminò 0 a 0 e che insomma rimandò la promozione la promozione del bari però quella fu una stessa particolarmente insomma vissuta e molto molto piena d'ansia ecco guarda sempre del campionato di conto è stato un esperimento ma i tifosi più attenti i radioscoltatori più attenti avranno capito quale parlo non ne parlo assolutamente lasciamo perdere andiamo avanti veniamo al bari dei giorni nostri ieri in conferenza stampa ha parlato il difensore brasiliano alan emperer ascoltiamo le sue parole tanto non capirai siamo pronti incontriamo un avversario difficile uno dei più forti del campionato però siamo consapevoli della nostra forza e siamo siamo carichi aspettiamo un palma arrabbiato che vuole vuole vincere perché ancora può andare diretto quindi ci dobbiamo far trovare pronti sarà una partita difficile però ci siamo è stato bravo il ministro a gestire gruppo perché penso che ha giocato tutti la forza del bari di quest'anno è il gruppo e si vede non è il singolo è il gruppo chi entra fa bene chi ha giocato ha fatto bene il ministro è stato stato bravo in questo a gestire gruppo e lanciare nel momento giusto ogni giocatore ora sto bene io sono arrivato a bari che venivo da un infortunio pesanti non avevo partite nelle gambe il ministro è stato bravo a gestire questa situazione mi ha dato spazio piano piano è normale quando uno gioca prendi continuità ritmo partita dobbiamo solo crescere con il ritmo partita è difficile entrare in forma se non giochi quindi è stato bravo il ministro a gestire questa cosa insieme allo staff e sono contento di quello che ho fatto finora tende al ministro a trovare la formazione giusta io gioco sia a tre che a quattro per me è indifferente l'importante è giocare e niente penso che questo deciderà il ministro che formazione mettere in campo ci ha caricato un po il mister che non ci dobbiamo accontentare che dobbiamo spingere penso che no che non ci deve dire lui questo deve partire da noi che dobbiamo siamo nel rush finale dobbiamo spingere mancano due partite per il campionato due partite importantissime e dobbiamo spingere noi pensiamo partita dopo partita mo c'è il palma c'è una partita difficilissima inutile che sto qua dire che dobbiamo pensare a vincere andare in serie a di qua di là dobbiamo pensare al palma voi se vinciamo se pareggiamo se perdiamo dobbiamo vedere che strada faremo però penso che è importante pensare partita dopo partita che che è meglio così c'è un bel bel spogliatoio qua che sono stiamo tutti bene è difficile stare 30 persone a uno spogliatoio stare bene invece qua stiamo tutti tutti bene siamo tutti contenti e quindi l'importante è quella la squadra del gruppo il gruppo è sano quindi è una forza in più non lo so chi è favorito no io sinceramente io penso solo ad allenarmi a giocare io non sto a guardare la classifica non so nemmeno com'è la classifica so che siamo dentro il playoff io penso solo allenarmi a giocare voi fare queste idee a perdermi mentalmente queste cose non mi piace quindi a fine campionato vedrò quale sarà il versare penso che non abbiamo niente da invitare a nessuno e dobbiamo continuare sulla nostra strada è un giocatore forte come 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 gli altri e il misto è stato bravo a gestire la situazione perché in attacco sono tanti c'è Nene Kozak Floreo Flores Andrada le punte Cissé le punte sono tante e quindi è stato bravo il misto a gestire questa cosa lui è entrato bene ha giocato benissimo ha fatto un gran gol gli ho fatto pure i complimenti però sono anche gli altri quindi è un problema del misto questo c'è c'è un problema da che deve scegliere è un bel problema perché comunque c'ha veramente cinque attaccanti o sei non lo so quanti sono sono tutti fortissimi vincere fa sempre bene da morale da entusiasmo però non penso che non è quella partita fondamentale per il nostro campionato penso che una partita difficilissima che dobbiamo affrontare da noi massimo e dobbiamo fare andare a fare una bella partita giocarcela poi vedremo come andrà sì penso che Bari sia la piazza ideale io sto benissimo a Bari sono molto contento di quello che ho fatto finora mi trovi un gruppo fortissimo sto bene qua ora penso a finire bene la la stagione qua e poi vedremo cosa succederà però comunque mi piacerebbe molto continuare il percorso qua al Bari radio mi piace e questo Alan Emperer Luca interessante la disamina di Emperer sulla gestione del gruppo da parte di mister grosso Emperer che dice difficile vedere 30 calciatori tutti contenti beh è vero è vero perché questo l'abbiamo detto più volte soprattutto in alcuni ruoli c'è più grande abbondanza forse questo è stato un punto di forza di grosso per gestire i momenti della stagione cercare di capire quando era il momento di far giocare Nene quando era il momento di far giocare Andrada così come la gestione magari dei calciatori arrivati dall'estero che è stata è stata impeccabile Perer che che ha detto ecco nel corso della sua intervista una piccola una piccola una piccola bugia quando dice di non conoscere di non conoscere la classifica perché insomma credo che in questo momento il Bari si debba fare ecco due conti in vista di queste ultime due giornate e ragionare ecco anche guardando a quello che succede agli altri campi ma secondo me la classifica c'è una bella stampata da uno spogliatoio impossibile ora che i playoff sono stati acquisiti non avere in mente la classifica gli avversari e quello che soprattutto avverrà nelle prossime giornate però consentiamo questa piccola bugia a Emperer intanto qualche messaggio c'è Boris che ci scrive una delle partite più sentite è stata a Bari in Latina nell'anno della remontata sabato corre sfoderare la migliore prestazione poi Alessandro 65 io mi ricordo purtroppo un Bari in Foggia dove eravamo in rimonta e fumo schiantati 1 a 3 ci condannavano praticamente in serie B il sondaggio è più sull'attesa per una partita più che quello per quello che è successo nella partita però va bene va bene anche così leggo qualche messaggio anche su Facebook c'è Meo che ci scrive ciao Nicola per la partita di sabato voglio vedere marcature a uomo su Di Gaudio e Ciciretti Di Gaudio per la sua velocità su di lui metterei Anderson mentre su Ciciretti bussellato beh guarda Anderson in marcatura non me lo vedo proprio se proprio bisogna seguire un uomo in quella zona lì ci metterei più Sabelli molto più bravo in marcatura Anderson in marcatura proprio no proprio non mi convince per nulla intanto ieri Bari che ha ripreso gli allenamenti leggiamo un report di Ramato dall'ufficio stampa Biancorosso seduta mattutina per i biancorossi sul campo dell'antistadio la squadra al completo ha lavorato svolgendo una seduta tecnica con test e percorsi atletici per aumentare forze e velocità lavoro differenziato solo per Morleo rientrato anche Cassani Luca per quanto riguarda quest'oggi intanto scusate seduta pomeridiana con inizio alle ore 15 e 30 dicevo Luca ormai quasi tutti recuperati perché restano fuori soltanto in lungo addigenti Morleo e Salzano e questo è sicuramente una grandissima notizia poter affrontare questi playoff, questo finale di campionato con praticamente tutta la rossa a disposizione sicuramente è un'ottima notizia direi che anche da questo punto di vista c'è stata grande attenzione nel gestire situazioni delicate come quelle di Floro Flores e Brienza perché magari in momenti in cui comunque non era il caso di forzare sono stati lasciati a riposo, penso soprattutto a Brienza che magari qualche settimana si era anche allenato con il gruppo però è stato secondo me ben gestito e credo che soprattutto loro due siano stati i due calciatori su cui è stato fatto un certo tipo di lavoro per fare in modo che arrivassero in questo periodo del campionato con ecco il massimo dell'energia a disposizione energie fisiche e mentali ma soprattutto fisiche ecco perché poi dal punto di vista mentale comunque sono due calciatori di grande livello abituati a giocare da tanti anni a calcio quindi penso che da quel punto di vista ecco non abbiano nessun tipo di problema leggo un altro messaggio, un bel messaggio che ci scrive Michele sulla nostra pagina Facebook Michele scrive buongiorno ragazzi oggi nessun quesito sondaggio nostalgia per me scrivo soltanto per dirvi grazie a te Nicola e a chi collabora con te per la buona informazione che la tua trasmissione ogni giorno offre ai tifosi del Bari vicini e lontani come me senza urlare ma con la giusta critica e quando serve sempre forza Bari grazie Michele messaggi come questi sicuramente ci fanno ci fanno bene leggo qualche altro messaggio invece giunto su Whatsapp Angelo ci scrive quando ci si saprà qualcosa sull'eventuale penalizzazione beh ci vorrà ancora del tempo perché come detto ora il Bari dovrà difendersi poi bisognerà andare davanti al tribunale sicuramente entro fine maggio qualcosa di certo si saprà intanto ora apriamo una piccolissima parentesi per una notizia aggiunta nella serata di ieri che indirettamente anzi diciamo anche direttamente riguarda anche il Bari perché c'è questa decisione un po' sorpresa che è stata presa dalla FIGC in effetti specie da Billy Costa Curta che attualmente è il sub commissario della federazione italiana gioco calcio Costa Curta che ad un'intervista al giornale alla rivista 11 ha dichiarato che anche in Italia arriveranno le seconde squadre per i club di Serie A un po' come avviene ad esempio in Spagna in pratica le squadre primavera giocheranno in Lega Pro occupando i posti delle società che non si iscriveranno tutti saranno tutti under 21 più due fuori quota under 23 Luca ci sarebbe da fare una trasmissione intera su questo però brevemente cosa ne pensi? penso che c'è una bella soluzione per se più che altro viene gestita nel modo giusto e si punte attraverso queste squadre alla valorizzazione dei settori giovanili perché è un argomento come hai detto tu che occuperebbe troppo tempo ma sicuramente merita una certa considerazione ma io per parere personale se parliamo di squadre primavera metterle in Lega Pro siamo su valori notevolmente diversi faccio un esempio secondo me un Monopoli giusto per fare un esempio è molto molto più forte di un Bari primavera secondo me se ho capito bene comunque è un argomento che andremo ad approfondire perché siamo giunti al momento dell'intervista al doppio ex di questo Parma Bari un doppio ex relativamente fresco visto che ha lasciato Bari solo a gennaio 2017 con i Ducali ha raccolto 75 presenze realizzando una rete mentre col Bari sono state 51 le apparizioni condite da 4 marcature in catiera ha segnato pochi gol ma quelli che ha realizzato sono stati molto molto belli come questo segnato al San Nicola contro la Virtus Lanciano tanto non capirai gioca con più intensità la squadra di Nicola 34esimo la perla di Valiani controllo ed esecuzione esemplare Cassadei impallinato tecnica estro e qualità in una giocata geniale Bari in vantaggio la riproposizione dal basso dell'acuto di Valiani e siamo con Francesco Ciccio Valiani grande doppio ex di questo Parma Bari in programma sabato al Tardini ciao Ciccio siamo molto felici di averti oggi con noi ciao a tutti un piacere allora Ciccio da gennaio 2017 sei a Livorno stagione 2017-2018 che si è appena conclusa con la conquista della Serie A che campionato è stato? è stato il campionato pieno di emozioni perché c'è stato i momenti in cui pensavamo di avere già vinto il campionato dopo il giorno d'andata e i tanti punti di vantaggio accumulati poi come sempre succede ci sono momenti in cui fai più fatica a fare risultato e quindi ci siamo un po' spaventati siamo stati superati dal Tiena ma poi nel momento importante siamo stati bravi sicuramente a reagire e a rimettersi di nuovo davanti a tutti e poi a vincere il campionato tra l'altro lì a Livorno ci sono anche altri ex calciatori del Bari parlo di vantaggiato Martino Borghese e Mattia Montini ecco ti chiedo come è andato il loro campionato siamo soprattutto interessati a Montini visto che è ancora dei proprietà del Bari e poi mia curiosità se vi capita di parlare di Bari e del Bari ma sì che ci capita ci capita spesso sia perché tutti questi giocatori che hai menzionato hanno giocato o comunque come nel caso di Mattia torneranno a giocare nel Bari e poi insomma anche con Michele Franco che essendo di Altamura è sempre molto interessato a tutto quello che vada intorno al Bari venendo ai ragazzi che sono comportati prendiamo subito Montini e vantaggiato insieme posso dirti con certezza insomma che Mattia sicuramente ha avuto un po' poco spazio proprio grazie al grande campionato che ha fatto Daniele perché ha fatto quasi 20 gol 19 e quindi quando vai un attaccante titolare bravo nato davanti che segna con così tanta regolarità posso dirti a studiare sì bravo regolarità questo è che il tuo spazio si riduca però insomma Mattia ha grandi qualità le volte che è stato chiamato in causa ha risposto sempre bene e sono convinto che si possa sicuramente giocare nel giocatore a Bari poi dovrà essere bravo lui a convincere la prossima stagione l'allenatore che magari può stare in un contesto importante come Bari ecco Ciccio tu sei un classe 80 ad ottobre compirai 38 anni se non sbaglio e hai un contratto con Livorno che ti scade il 30 giugno 2019 ecco senza avventurarci troppo nei particolari ti chiedo quali i tuoi programmi per il futuro i programmi per il futuro ti dico da quello che penso realmente cioè che non mi metto il limite insomma quando arriverò alla scadenza del contratto avrò quasi 39 anni quindi per forza di cose bisognerà ascoltare il proprio corpo vedere come è andata la stagione come diciamo si è arrivati a questa scadenza di contratto sia fisicamente sia mentalmente io ho la voglia di giocare veramente che avevo 15-20 anni fa e questo è quello che mi e questo è quello che mi tiene vivo e che mi fa non pensare a cosa andremo incontro dopo magari la carriera da calciatore ecco questa è una domanda che ti avrei fatto dopo però mi hai fornito un assist perfetto a Bari c'è a Bari c'è un altro calciatore più o meno della tua età un anno in più e mi riferisco un altro ciccio Brienza un altro ciccio sì un altro ciccio che dice anche lui magari a questa voglia e soprattutto beh penso che fisicamente lui abbia qualche problemino in più purtroppo ma sì però anche ciccio è uno come posso dirti è uno di quelli come dico sempre io che quelli come noi non li fanno più quelli vecchi stampo sicuramente con quel talento lì ciccio può magari riesce a sopperire anche a qualche problemino a qualche acciacchino fisico visto che quest'anno già sul finire dell'anno scorso con quel ginocchio poi quest'anno ho avuto qualche problema però insomma quando ho visto le partite del Bari ho visto magari che l'ho visto entrare anche magari 20 minuti un quarto d'ora è sempre è sempre lo spettacolo ecco vedendo ecco ciccio facciamo ora invece un passo indietro un deciso passo indietro ripercorriamo un po' la tua carriera sei approdato però nel calcio che conta solo nel 2008 parliamo del Bologna avevi 28 anni ecco come mai questo ritardo e poi ti chiedo cosa ha rappresentato per te il Bologna ma guarda la Bologna è stata la chance è stata la chance della carriera diciamo che è stata dura emergere comunque ho fatto il settore giovanile nella pistoiese e poi insomma come spesso succede a tanti ragazzi si va a giropagare a fare a parte di ossa come si dice in questo caso devo dire che mi è servito e mi è piaciuto magari posso aver ritardato l'arrivo sul parco scenici importati ma magari può anche essere che prima non fossi così pronto che avessi bisogno di fare esperienze diverse di sudarmi un po' in qualche categoria inferiore sono stato macerata sono stato Imola in serie di C2 poi sono stato appisto in C1 ho fatto qualche anno di C1 diciamo che in via 25 anni e poi insomma in A28 abbiamo fatto un po' un po' tutte le scalette ecco insomma la C2C dai 19 ai 24 anni e poi 3 anni di tempo è arrivato in A2 sì ma ti ripeto è ancora una cosa bella che vuol dire che magari la famosa gavetta non può sudare bravo non può sudare con qualche anno di gavetta ma l'importante che sia arrivato poi insomma poi Bologna con tutto quello che poi è arrivato anche dopo con tutte le stagioni fatte in A che sono state sicuramente una grande soddisfazione ecco con un esordio niente male se non sbaglio prima in Serie A è subito un gran gol a San Siro se non sbaglio in Porta c'era Abbiati giusto? sì 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 esatto sono quelle giornate da ricordare nel senso che comunque sicuramente è la foto numero uno della mia carriera e dei miei ricordi più belli delle giornate più veramente emozionanti anche assurde perché comunque ti trovi sei mesi prima sei in B anzi no due mesi prima sei in B col Bologna ma sei mesi prima sei a Rimini in B e poi ti ritrovi a segnare a San Siro all'attore campionato con l'esordio di Ronaldinho e lo stadio pieno ma queste sono sono quelle cose che ti fanno veramente sempre tutti i giorni che vai a allenarti pensare di dover arrivare a certi livelli più che sono emozioni pazzesche neanche nei film delle immagini a tirla tutta hai segnato anche un altro gol a San Siro con la maglia del Siena però contro l'Inter giusto? per non farci mancare nulla giusto? sì è vero sì sì tra l'altro la fortuna poi le spesso sono cose che spesso non succedono di fare due gol a San Siro e tutte e due hanno coinciso con due vittorie sì a volte magari si segna ma si prende una barca di gol in quegli strade lì invece in questo caso sono stati due gol da tre punti quindi belli si ricordano anche molto più volentieri dopo i due anni al Bologna la Prodo al Parma Parma prossimo avversario del Bari che esperienza fu quella emiliana che è quella positiva direi sì sicuramente che Parma è una parentesi di quelle di quelle stupende dove poi si era creato anche un gruppo proprio molto solido anche a livello umano tra di noi tra i ragazzi era diventata un po' anche la nostra forza eravamo veramente un bel gruppo ben cementato è stato ti ripeto è stato un grosso è stato molto combattuto quando ho passato da Parma a Siena perché era duro abbandonare anche se magari di là prolungavo il contratto a Siena tutte cose che comunque non raccontano però quello che avevamo come c'eravamo a Parma era veramente bello molto più di una semplice autocarrozzeria Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento dinamico e polifunzionale con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione meccanica leggera elettrauto revisione auto soccorso stradale igienizzazione abitacolo verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo inclusi pezzi di ricambio e mano d'opera l'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina ma anche rivendita di auto nuove ed usate e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto sia nuova che usata a prezzi competitivi e servizio chiave in mano autocarrozzeria Fratelli Alberga autorizzata Fiat a Binetto via Macchia del Bosco telefono 080 62 2014 tanto non capirai e dopo poi le esperienze appunto come hai detto a Siena e a Latina ecco il Bari stagione 2015-2016 campionato che vide sulla panchina dei Biancorossi prima Davide Nicola poi Andrea Camplone quali le emozioni di quella tua prima importante ovviamente stagione in Biancorosso ma guarda emozione emozione incredibile quell'anno lì già la prima partita con lo Spezia che fu una partita assurda in 10 dal primo tempo ribaltata 2-3 volte vinta 4-3 in 10 contro 11 quindi fu una partita già quello ci piace un po' capire come sarebbe andata la stagione che poi si conclude male con il playoff con l'Ovara che fu una partita molto simile a quella dallo Spezia però questa volta il 4-3 per gli altri no quella stagione lì fu un po' a due facce perché io mi ero integrato molto bene mi trovavo anche molto bene con Davide Nicola si stava creando un bel entusiasmo secondo me un bel mix per poter rimanere attaccato a quelle due squadre che comandavano che erano Cagliari e Crotone però un pochino staccati però sempre lì pronti faccelo bene del suonerare Nicola ora si può dire sono passati tanti anni no no guarda stiamo arrivando proprio lì secondo me ma col senno di poi io non non nascosi anche lo dissi chiaramente anche al presidente che secondo me era stato cioè sul momento ti dissi secondo me era un errore sicuramente il suonerare Davide Nicola poi questo col senno di poi ti dico che sicuramente abbiamo avuto Campione che ci ha dimostrato con il lavoro tutto di essere un allenatore altrettanto bravo altrettanto preparato sai com'è nelle squadre quando cambio guarda le scorsone cose che altro in un momento in cui la maggior parte della squadra aveva grande fiducia a Davide Nicola forse lì non siamo stati bravi neanche noi a reagire bene al cambio di panchina perché comunque ti ripeto per me non fu giusto ma non è certo collegato a Campione che è un allenatore che forse iniziò anche bene iniziò anche bene ecco Ciccio tu hai fatto parte anche del primo Bari targato Giancaspro hai vissuto da vicino anche le vicende societarie che portarono il Bari molto vicino ad un nuovo fallimento per fortuna evitato ecco come vivesti quel periodo e poi ti chiedo come lo visse la squadra perché sicuramente non erano cose che vi aspettavate ma di sicuro ti ripeto c'era già un po' di scetticismo con il tormentone dato il tormentone dato già ci trovò un po' sorpresi un po' increduli c'era chi giustamente come spesso succede in questi momenti dice no ma perché non dobbiamo crederci anzi magari può essere l'evento da svolto c'era chi era più scettico non ci piace bene secondo me tutto il gran trambusto con papareste dato non ci piace bene neanche in previsione il layoff però questo è quel senno di poi e lei e Gian Caspro l'ho vissuta per sei mesi io tieni conto che sono uno che cerca sempre di fare il suo lavoro non sono uno di lui che va magari a cercare di sapere cose quindi i nostri particolari non li so so soltanto che per quello che ho letto insomma che ho sentito un po' dall'interno che sicuramente Gian Caspro mise una bella pezza in una situazione abbastanza compromessa e penso che che su questo Bari Bari debba sicuramente se le cose sono andate veramente così come io credo penso che Bari debba essere da questo punto di vista molto riconoscente Gian Caspro che sera forse si sarebbe vissuto un fallimento 2.0 nel giro di pochi anni e magari non sarebbe neanche stato un modo di poter fare un fallimento ragionato o pilotato come si dice come è successo qualche anno fa Ciccio poi a gennaio il trasferimento a Livorno ti chiedo se fu una scelta condivisa un po' da tutti io ricordo che molti tifosi biancorosi anzi tutti i tifosi biancorosi non la presero affatto bene perché ti volevano e ti vogliono ancora molto molto bene ma guarda intanto il bene è reciproco ma a livelli molto alti perché Bari forse abbiamo parlato di tante squadre però credo che la piazza non faccio sorte a nessuno dicendo che la piazza dove ho respirato veramente la sensazione di essere un calciatore proprio amato come posso dire di considerato in giro per la città quello che ho sentito a Bari non l'ho provato in nessuna città dove sono stato da quel punto di vista perché il calore quello che tutte le persone che incroci ti possano riconoscere che possano dare una pacca sulla spalla ti possano dire qualcosa ma nel chissà nel bene e nel male ti fa sentire sicuramente parte integrante la città e ti dà quella responsabilità e quel calore che ti serve sul fatto di essere andato in gennaio io studiano devo dire di fare dall'ultimo un ottimo rapporto quindi fu una scelta dettata da una richiesta mia dove io ero in scadenza giugno avevo volontà di prolungare non più di contratto ma insomma l'anagra se diciamo che non giocava a mio favore su questa possibilità quindi avevo un'offerta dal Pisa o dal Livorno e poi ne parla con il direttore e il direttore giustamente mi disse le parole che è giusto dire in quel momento cioè che durante una stagione a metà stagione che non stavano neanche andando troppo bene tra l'altro provarsi a parlare di nuovo ragazzi da 37-38 anni non era come posso dirti in quel momento non era la cosa più importante ma io al posto di Sogliano avremmo fatto allo stesso modo non ci sbagliamo quindi in maniera molto corretta si trovò la soluzione Ciccio venendo al calcio giocato come abbiamo detto prima sabato sfida importantissima tra Parma e Bari che partita sarà chi vedi favorito e poi ti faccio una domanda imbarazzante per chi farà il tifo? quello ci guardiamo per ultima eh certo allora no sicuramente è una partita di quelle toste toste perché veramente possono indirizzare io credo che in classifica la mano possa essere altamente altamente decisiva per Parma per il fatto di avere quei punti in più riesce magari il Bari deve un pochino stare anche alla finestra vedere quello che fa il Tosirone quello che fa il Benetti anche c'è sopra il discorso il Parma può decidere il suo destino da solo il Bari dovrebbe fare il massimo cioè vincere e promettesse alla finestra è una partita è una partita aperta forse qualche settimana fa un mesetto fa avrei detto favorito Parma però vedendo un po' come sta reagendo il Bari adesso e vedendo un pochino anche la battuta del resto del Parma a Cesena penso che sicuramente abbiano perso un po' di certezze e che il Bari sia sicuramente un pochino più lanciato detto questo sulla domanda ultima che mi hai fatto puoi anche non rispondere dai ma infatti mi hai messo altamente in crisi no no diciamo che farei fatica farei fatica a dirti quello che puoi sperare sicuramente la mia speranza in questa cosa sarebbe di vederne una su diretta e l'altra su pleo lo so posso sembrare diplomatico però è la verità Parma e Bari come città come squadra come persone occorre dentro e fuori dal campo mi portano veramente a non poter fare una scelta infine ciccio ultimissima tornando ai tifosi biancorossi come vorresti salutarli magari non hai avuto l'opportunità di farlo quando sei andato via e poi magari come sto chiedendo anche a qualche tuo ex compagno magari un saluto in dialetto barese se te lo ricordi ancora intanto il saluto devo dire che veramente la focaccia della Peroni mi mancano abbastanza ma soprattutto ti sono sincero mi manca quello che ho sentito quando ho segnato dentro quello stadio lì pieno vuoto che fosse comunque sono state emozioni fortissime fortissime perché è uno stadio che trasmette anche di più rispetto a quello che magari sono le presenze effettive numericamente all'estadio quindi è una sensazione pazzesca da quel punto di vista e poi sul dialetto non sono tanto forte dicevo sempre magari neri dicevo sempre piccione di mamma però so che non si possono dire quindi vedi te se mandarla in onda o no la mangiami no la mangiami no si può fare tanto andiamo in onda la mattina alle 7 quindi ci sono pochi bambini all'ascolto perfetto non si scandalizza nessuno no 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 va bene va bene allora io ringrazio l'ex il doppio ex di questo Parma Bari Ciccio Vagliani per essere intervenuto ai nostri microfoni Ciccio grazie mille e bocca al lupo per il tuo prossimo campionato grazie a Ciccio Vagliani crepe il lupo davvero radio mi piace e allora simpaticissimo Ciccio Vagliani che un bravo giocatore una gran bella persona Luca ti aspettavi un epilogo del genere di questa intervista con questa parolina detta da Ciccio Vagliani no mi ha sorpreso anche il riferimento chiaramente ai magazzinieri ecco ma è chiaro insomma che quando si vive in un'altra città ci siano diciamo queste sfumature ecco molto particolari per quanto riguarda Vagliani sì è un personaggio come dicevi tu molto molto simpatico aveva già dato modo di dimostrarlo qui a Bari oltre al fatto di essere un ottimo professionista credo che insomma un cacciatore cacciatori come Vagliani siano sempre ecco utili in una squadra in un gruppo in un contesto di squadra Vagliani ci ha detto così tante cose che anche qui potremmo fare una puntata solo per commentare le cose dette da Vagliani veramente tantissime innanzitutto l'esondolo di Nicola lui ha detto chiaramente che non ha mai gradito quella scelta poi per la prima volta un cacciatore che si espone su questioni societarie ha detto chiaramente che la questione il tormentone da topo a paresta danneggiò la squadra in quel periodo e poi Vagliani riconoscente dice Bari deve essere riconoscente verso Gian Caspro perché ci ha messo una bella pezza altrimenti Bari sarebbe fallito nuovamente cose che sappiamo però difficilmente il calciatore si esprime in tal senso e poi le parole al miele per Sogliano questo io non me l'aspettavo perché pensavo ad un divorzio magari un po' più duro tra Vagliani e il Bari invece in maniera molto tranquilla ed onesta Vagliani dice avevo il contratto in scadenza l'età non era dalla mia parte giusto non rinnovare e mandarmi altrove anche questo dichiarazioni che rendono l'onore a Ciccio Vagliani io ricordavo questo aspetto legato proprio alla sua volontà chiaramente dipendente dalla mancata volontà del Bari di rinnovare il suo contratto magari anche alle cifre proposte da squadre come Liborno dove lui poi è approdato è chiaro che quando un calciatore è più in là con l'età come ha detto lui è giusto che la società faccia determinate valutazioni e non è detto che decida per il rinnovo del contratto quindi con grande onestà intellettuale anche lui si è tirato fuori scegliendo una soluzione una soluzione diversa ovviamente noi aspettiamo Ciccio Vagliani a Bari perché come ha detto mi mancano la focaccia e la Peroni leggo qualche messaggio perché ci sono alcune precisazioni da fare allora c'è Enzo dal San Paolo che ci scrive sogno la serie A diretta alla fine dei 90 minuti con il carpe in casa un sogno un po' di tutti ma molto molto difficile poi c'è Paola che per quanto riguarda il discorso delle squadre in Lega Pro scrive le squadre Under 21 con fuori quota Under 23 giocheranno in Lega Pro si tratterebbe quindi di squadre B mentre in primavera giocheranno comunque quindi le squadre di primavera continueranno ad esistere giocheranno gli Under 18 mentre attualmente giocano gli Under 19 quindi ringraziamo Paola per questa precisazione poi c'è Pasquale che ci chiede avete notizie sul numero dei biglietti venduti per sabato ieri avete parlato di 700 biglietti beh nell'ultime ore c'è stato un netto incremento le ultime notizie da Parma ci riferiscono di oltre 1000 biglietti venduti per il settore ospiti del Tardini che ricordiamo può ospitare fino a 3800 biglietti bene è veramente tutto anche per quest'oggi vi ricordo che le repliche di Tanto Non Capirai sono disponibili sul canale ufficiale youtube di Radio Mi Piace ma sono anche su Spreaker e sulla pagina facebook ufficiale di Radio Mi Piace saluto e ringrazio Luca Dele Teris Luca appuntamento domani ciao Nicola grazie grazie a te un saluto a tutti i tipici del Bari a domani per una nuova puntata di Tanto Non Capirai ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito Tanto Non Capirai torna quindi domani qui su Radio Mi Piace con una nuova puntata forza Mari e ciao da Nicola Luca Regni